Va in cerca di una prostituta ma si ritrova a letto con un trans. E' successo ad un 55enne bresciano in vacanza sulla riviera. L'uomo nella serata di domenica pare si fosse sentito particolarmente solo dal momento che il resto della famiglia, con la quale aveva raggiunto Rimini, aveva fatto ritorni in Lombardia. E a questo si sarebbe aggiunta anche l'insonnia. Il 55enne ha così pensato di fare una passeggiata col cane in Viala Regina Elena, dove ha incontrato quella che credeva fosse una prostituta, ma in realtà si trattava di un 36enne transessuale. Il bresciano ha concordato una prestazione sessuale per 30 euro ed entrambi si sono avviati in un vicino residence per consumare. E' stato nella camera della struttura ricettiva, dopo qualche giochetto a luci rosse, che l'uomo ha fatto l'amara scoperta di aver rimorchiato un trans. A questo punto però le versioni dei protagonisti iniziano a divergere. Il bresciano avrebbe chiesto al 36enne di recuperare un po' di cocaina per tirarlo su di giri dopo la scoperta del vero sesso di quella che credeva una prostituta. Il trans però sarebbe tornato poco dopo a mani vuote, facendo così innescare la lite. I 30 euro pattuiti all'inizio infatti non bastavano più al transessuale, visto il tempo che aveva perso anche per cercare lo stupefacente. Al diniego del cliente avrebbe quindi spaccato una bottiglia di vetro per aggredire l'uomo con un coccio. E a sua volta anche il 55enne avrebbe sferato dei fendenti con un'altra scheggia al 36enne. All'arrivo degli agenti il transessuale presentava delle ferite ed è stato portato in pronto soccorso all'ospedale Infermi da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni mentre il bresciano aveva a sua volta delle ferite da taglio. Entrambi sono stati denunciati piede libero.